Soprima è un'azienda molto visionaria, perché è stata davvero tra le prime aziende europee del settore a iniziare a immaginare e pensare all'introduzione digitale del primo all'interno del loro processo. Quindi devo dire che ci ha visto bene perché oggi i risultati che ha ottenuto grazie alla collaborazione di Guantini sono davvero dei risultati stranodiali. Cosa abbiamo fatto insieme? La prima cosa che si è pensata di fare è quella che in quel momento io non facevano ancora quasi nessuno, quello che fanno tutti, quella di andare a digitalizzare in modalità per il proprio catalogo di prodotti. Ma non ci siamo fermati solo a questo aspetto. Abbiamo fatto molto di più. Abbiamo pensato che fosse cosa veramente importante andare a iniziare a formare, a portare cultura sulla rete consulenziale dell'azienda verso questa nuova metodica. Perché? Perché si rendeva indispensabile il fatto di iniziare a collaborare con quei progettisti, con quei professionisti che già all'epoca avevano iniziato a ragionare, a fare strategia sul digitale. Abbiamo fatto diversi coach, quindi con il team, con i consulenti commerciali all'interno di Soprima e devo dire che abbiamo raggiunto dei risultati davvero straordinari. Oggi sono tra i pochi consulenti nel settore che non solo sono in grado di parlare di BIM, di potersi confrontare a titolo con i vari studi di origine e studi di prescrizione, ma possono veramente generare valore sui prodotti che loro normalmente consigliano, commercializzano e che l'azienda produce. Quindi devo dire che è stato un risultato straordinario, di cui i risultati ormai da tempo si iniziano a vedere, stanno portando dei ritorni di investimento decisamente importanti e devo dire che è un po' anche il fiore a l'occhietto per quello che riguarda i clienti di 1D, per quello che riguarda il mondo del BIM che si fanno un fatto e dovi davvero tanti complimenti a Soprima.